Di quei giorni non ho immagini bianco e nero, perché se spesso, quando si è piccoli, le prime immagini che possono affiorare sono quelle di momenti in famiglia o dei contesti che sono consoni a dei bambini, una delle prime immagini nitidi che ho nella mia mente è quando avevo quasi cinque anni e un enorme boato squarciò i cieli di Bologna. Mi trovavo a poche centinaia di metri da quella stazione, con mia madre che teneva me e mio fratello per mano, e che ci lasciò immediatamente una signora che quasi passava per caso perché iniziò a girare la notizia che una caldaia era esplosa nella stazione di Bologna. Non era una caldaia, era una bomba. Era una bomba che venne collocata lì da chi non voleva ferire solo la città di Bologna ma tutta la nostra nazione. E a 42 anni da quei fatti credo che il Parlamento, le istituzioni, il Governo, tutti abbiano da assumere degli impegni inderogabili nei confronti delle generazioni passate e anche nei confronti delle generazioni future. Ho sentito gli interventi anche dei colleghi che mi hanno preceduto. E credo che Fratelli d'Italia non abbia alcuna difficoltà ad assumere due impegni precisi qui, ora, adesso, anche per il futuro, di approvare quella legge per le vittime di ogni tipo di violenza che abbiamo sottoscritto e firmato e fortemente voluto al fianco dei colleghi, del Partito Democratico, della Lega, di Forza Italia, di tutti gli schieramenti perché è una legge giusta. E il secondo impegno è quello per il quale ci batteremo sempre. Aprire tutti i cassetti perché vogliamo la verità dei fatti. È l'unica parola che ci ispirerà. Qui e ora è sempre, è solo una. Verità, verità, verità.